Continua la volata della Punto del Sala Consilina nel Girona F di Serie B2, che ieri contro la Tralfa Rabona a Manopello ha archiviato il quinto successo consecutivo con un rocambolesco 3-2. Un match spettacolare ed emozionante quello che ha visto confrontarsi le due compagini e che ha tenuto con il fiato sospeso fino alla fine gli oltre 500 tifosi presenti sugli spalti del Palapuzzillo. Una gara faticosa ed accesa giocata punto su punto, che alla fine, grazie anche al calore e dal sostegno del pubblico di casa, si è conclusa con la vittoria della compagine salese, che ha mostrato una grande grinta. Grande merito tuttavia da riconoscere al Tralfa Rabona, che a Sala Consilina ha messo in serie a difficoltà le ragazze di Misteri Annarella, che hanno disputato una partita a fasi alternate. Complimenti alle nostre avversarie, che sicuramente saranno tra le protagoniste del campionato, dichiara Bruno Vucca, vicepresidente della Punto Hotel. Abbiamo sofferto troppo, in questo momento alcune nostre atlete non giocano i loro consueti livelli, e ciò incide negativamente sul rendimento generale dell'intera squadra. La Punto Hotel rimane dunque posizionata ai vertici della classifica, guidata dalla polisportiva Ermea Olbia, con 14 punti, uno in più nei confronti delle Salesi, che hanno però disputato una gara in meno rispetto alla squadra sarda. Grazie!